Cinema e storia e cinema e società, tornano i progetti Scuola BC promossi dalla Regione Lazio. Ha come obiettivo di portare il cinema italiano nelle scuole legandolo al loro percorso scolastico, al percorso storico. Dal 2008 noi abbiamo avuto molti successi, questo progetto è nato appunto sotto la spinta del presidente Zingaretti ma con l'aiuto fondamentale delle giornate degli autori, del critico Fabio Ferzetti che aveva già creato 100 più 1 film da salvare perché noi con questo progetto speriamo sempre di riuscire a salvare tutta la grande cineteca italiana che deve sempre essere restaurata, conservata e promossa fra le giovani generazioni. Divorzio all'italiana di Pietro Germi del 1961, I mostri di Dino Risi del 63 e C'eravamo tanto amati di Ettore Scola del 74 sono i tre film scelti nell'ambito cinema e storia che tratta dell'Italia del secondo dopoguerra attraverso le migliori immagini d'autore. Anime Nere di Francesco Munzi del 2014, Mia Madre di Nanni Moretti del 2015 e sempre del 2015 il racconto dei racconti di Matteo Garrone sono i film scelti per cinema e società, un focus sui temi della contemporaneità a occasioni per sviluppare riflessioni e analisi a più facce con il contributo dei protagonisti della realtà cinematografica.